amici di battista 70 phone oggi vi presentiamo uno smartwatch che secondo noi è molto molto interessante del nome zordai z di ultra 2 le caratteristiche tecniche potete già vederle nella scatola fuori dalla scatola punto sono molto interessanti è dotato di una smart display island questo già fa capire un pochettino di cose c'è la possibilità di rispondere ovviamente direttamente dallo smartphone dello smartwatch e ha tutta una serie di sensori dedicati alla salute diciamo e allo sport e la salute ma vabbè andiamo a vederlo perché questo è solo un unboxing apriamo la confezione è una confezione abbastanza importante per essere uno smartwatch perché perché all'interno troviamo un bel po di cosettine ben due screen protector poi troviamo due cinturini molto interessanti anche questi perché uno diciamo che è più adibito allo sport non ha la fibietta e invece che di colore grigio in questo in questa confezione che abbiamo ricevuto invece quest'altro è un colore beige e dalla fibiettina in stile orologio sono fatti veramente bene anche l'attacco vedete che vi ricorda qualcosa secondo me manualistica poi abbiamo il suo la sua basetta di ricarica a induzione con ingresso usb a ed ecco qua il nostro zordai z di ultra 2 andiamo a togliere una plastichina di protezione ed eccolo qua ricorda qualcosa a messi e ben costruito adesso questo è solo un piccolo unboxing ben costruito accendiamolo e andiamo a vedere anche il display pesante acciaio materiali metallico adesso non so bene di cosa si tratti però vedete che anche un bel display amoled luminoso poi lo vedremo nella recensione completa adesso questo solo un piccolo unboxing che vi fa vedere appunto le caratteristiche fisiche del prodotto e cosa bella confezione che ha corredo andiamo a vedere anche di attaccare un attimino anche il cinturino così vi abbiamo fatto vedere il prodotto terminato e completo cinturino si attacca in modo molto semplice la parte superiore ecco qua ecco qua il nostro zordai z di ultra 2 che ci ricorda qualcosa come lo diciamo all'inizio di questo video unboxing che proveremo in maniera approfondita nei prossimi giorni eviteremo informati con la nostra recensione completa per il momento per questo piccolo unboxing a tutto un saluto da lucio per battista 70 phone ciao 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 ciao